La contestazione, l'uscire fuori in scottati non è una bella cosa, ti aspetti che non è qui la taviscia la settimana, qualche sussutto c'è stato, quindi spero una reazione, una cosa, non si può giudicare, dipende tutto da Romani, in questo momento la testa pensa a come reagire, magari non vedi una testa lì, magari dici un'altra domani, mi trovo altro modo giusto per far fuori l'orgoglio, poi tutto quello che hai per metterle in cazzo, ma non è così difficile. Ma forse perché, ma poi le telepatine le abbiamo fatte, sì sì no non discuto quello, perché secondo me l'aspetto caratteriale, l'aspetto predominante di questa squadra fa sempre pensare a qualche dubbio che durante la partita puoi avere dei gradi di concentrazione di attenzione, per questo magari, ma non so, perché devi dobbiamo, insomma, che no già no, allora, faccio io un'altra domanda che non dico per quella del Marco, ma insomma, sull'aspetto, diciamo, come affronti anche sia l'interesse che le conferenze staffa, gli anni scorsi eravamo venenato, sempre, vincevi, perdevi, sempre peso, sempre tirato, sempre, è stato sempre, diciamo stranamente, al di là di venerdì sera.